Abbiamo pensato di riaprire al pubblico una mossa che era stata già annunciata il 25 marzo, il giorno del Dante Dì. Poi per le note condizioni legate all'emergenza sanitaria la mossa di fatto non è stata visitabile. Da oggi finalmente possiamo riaprirla al pubblico e sarà aperta anche fino al 31 luglio, quindi oggi ne annunciamo anche la proroga in modo da dare la possibilità a tutti quanti, i cittadini e i turisti, di poterla venire a visitare. Le opere esposte sono sì le opere del passato ma non solo del passato. Iniziamo con il primo documento, il più antico, che è relativo al XV secolo, risale al XIV secolo, chiedo scusa, per arrivare poi fino alle testimonianze dantesche dei nostri giorni, quindi del XXI secolo. In un anno così importante anche per la ricorrenza di Dante, ha parlato anche lei di turisti, nella speranza che già da quest'estate in molti possano venire a Pesaro a visitarla. Sì, sì, certo. Infatti l'apertura e la riapertura della mostra è legata anche a questo, cioè a rendere ancora più ricca la città di Pesaro che già offre tante opportunità per i turisti, ma siamo contenti di poter essere anche noi all'interno del circuito turistico e quindi siamo a disposizione per tutti coloro che vorranno venire a visitarla. Sono sette secoli dalla scomparsa di questo poeta che è significativo per tutta l'Italia, per la sua identità, per la lingua italiana e anche per questi luoghi, perché spesso sono citati nella commedia tutta la zona del Monte Feltro, Fano, San Leo, il Monte Catria. Diciamo, era una realtà che Dante conosceva molto bene. La nostra intenzione è quella di mantenere vivo il ricordo proprio attraverso i libri. All'inizio codici, manoscritti, poi via via stampa, sempre più raffinati, sempre più dotati di una iconografia, quindi di immagini bellissime, fino alla celebre edizione ottocentesca di Gustavo Odorè e che portano a luce tutta una serie di aspetti anche estremamente attuali, più di quanto potremmo immaginare. Presidente, invece per quanto riguarda l'attualità, si terranno degli incontri, soprattutto dal mese di settembre, che particolarità hanno? Diciamo che il primo settembre farò personalmente una conversazione col pubblico intorno a un aspetto importantissimo nel pensiero dantesco, che è la politica. Quindi politica e società nella Divina Commedia. Sembrano due termini molto moderni, molto contemporanei, magari definiti diversamente all'epoca di Dante, però sono sicuramente al centro della sensibilità del poeta, che è stato anche un uomo politico, è stato priore a Firenze, ha pagato anche di persona per la sua fedeltà a un'idea politica. Sono temi che credo possano insegnare qualcosa a noi ancora oggi.